Yo-Kai Watch Wild School Heroes ufficialmente registrato per l'Occidente, e noi intanto aspettiamo ancora il 4, level 5, se magari ti dai una mossa, eh? La cosa divertente è che quando io feci quel video su quale prossimo gioco sarebbe uscito di level 5, che doveva essere Yo-Kai Watch 4, io pensavo, perché c'era quel team che ha tradotto Snack World che stava traducendo anche altri giochi, bene, Yo-Kai Watch Wild School Heroes è stato inserito per essere registrato a luglio, E indovinati un po' quale notizia è uscita a luglio, che il team che ha tradotto Snack World stava traducendo un gioco a level 5 Noi non vediamo Yo-Kai Watch 4 ma vediamo prima questo, o solo questo, che andrebbe anche bene a me, ma non troppo